Il Carabiniere Il Carabiniere Come reagirebbe Barone? Non comment Non comment Ma se qualcuno le dicesse Sei un Carabiniere No, a me non me lo può dire nessuno Ma se glielo dicessero? Beh, sarebbe una cosa un po' male E nelle cose male io reagisco Lei è stato chiaro Buonanotte Mira Buonanotte Perché Racconta la cosa degli altri Non è che è bello Perché è uno spione E gli spioni non sono ben graditi Invecemente a Palermo I Carabiniere non sono come la polizia E' una cosa a parte Sono più Penmalosi Magari la polizia A volte ti considera A volte magari non ti prende una multa Non ti considera Ma il Carabiniere no Carabiniere è Carabiniere Ma se qualcuno ti dicesse poliziotto In che senso poliziotto? Se a lei le dicessero Mentre lei cammina per la strada La vecchia Sei un Carabiniere Carabiniere? Ecco Ho notato un'inflessione già No Ma io Non ci vorrei lasciare un Carabiniere Carabiniere? Ma quelle Carabiniere? Io vorrei dare un Neviro Perché lei è Carabiniere Ma non dimostra se è Carabiniere Ma ne hai documenti Mi fa vedere le distinte No no Se qualcuno a lei le desse del Carabiniere Lei come reagirebbe? Io Carabiniere non ci sono Perché sono una degna persona La vecchia Ma se qualcuno per strada le dicesse Carabiniere Lei come reagirebbe? Niente E lei mi esce fuori in razza Scusi Se qualcuno le dicesse Sei un Carabiniere Io me la accoglierei Allora lei è un Carabiniere? No un Carabiniere via Io sono un ragazzo come gli altri Sono un cittadino La mia penna accendina e cosa va Ma lei lo farebbe il Carabiniere come mestiere? No Mai? Perché non mi piace Ma se lei è disoccupata È disoccupata Lo devo fare per forza il Carabiniere E vabbè lo faccio Basta che mi pagano Ma lei scusi Lei si chiama La Vecchia? La Vecchia Sicuro? Sicuro E il fratello dei primi due? Però lei il Carabiniere lo farebbe? Lo farebbe Perché non lavoro come gli altri Ah si? Perché vivono di stipendio E non fanno otra giornata niente Senta ma lei sa che i suoi fratelli ritengono offensivo fare il Carabiniere? Perché loro non possono vedere i Carabiniere Ma come mai? Non lo so Se a lei qualcuno le dicesse La Vecchia sei un mafioso Lei come reagirebbe? Ma un mafioso te lo accetto Perché sono ma contento mafioso Certe cose non si rifiuta Eh? Senta ma se invece qualcuno a lei desse del mafioso Lei come reagirebbe? No Mafiosi non ci sono perché non è cosa mia Ma i suoi fratelli invece ritengono che tutto sommato sarebbe un complimento Un complimento però Per me no Ma lei si chiama La Vecchia? Sì sì La Vecchia Sicuro? Sicuro Siete fratelli? Fratelli siamo sicuro Nati nella stessa famiglia Sì Ma come mai dico? Boh Boh Ognuno ha le sue idee chiare Vogliamo definirla come dire un mistero della genetica? Ci fermiamo qui? No